Mi ricordo un po' a pensare a delle cose che ho fatto prima di tutte queste cose che sono successe, perché alcune cose mi portano un po' indietro con la testa a pensare da dove sono partito alla fine, da quello che ognuno fa per partire, per cercare di portare avanti la propria passione. E questo mi ha fatto ricordare una canzone che è da un botto di tempo che non faccio più e stasera ci vuole di farlo perché oggi mi è venuto in mente. Quindi essendo anche qui in una situazione bergamasca, tale io sono, è una situazione di teatro, così mi piace ritornare un po' a quello che sono stato ed è una delle prime canzoni che facevo, quindi la voglio riproporre qua stasera. Ve lo possa piacere insomma. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti